Buongiorno a tutti quanti, eccomi ritornata con un nuovo video, ho cambiato un pochettino un po' la vostra azione insomma l'ho resa un po' più natalizia Sono qua con la mia tisana e la mia bellissima tazza di Harry Potter oppure il maglione in realtà di Harry Potter anche se non si vede probabilmente Però insomma oggi sono tutta a tema Harry Potter, vi ho chiesto appunto su Instagram di farmi determinate domande e curiosità insomma che avevate E ho detto vabbè dato che non ne faccio comunque veramente da un sacco di tempo e un po' di domande mi sono arrivate, ho detto lo registro insomma Ho deciso appunto di bermi la mia buonissima tisana della Bonamelli e io adoro le tisane della Bonamelli insomma Ho anche un cioccolatino dell'Anne Espresso, in realtà volevo sgranocchiare qualcosa però non mangiare troppe schifezze e ho detto vabbè Andiamo per un cioccolatino Su Instagram mi avete fatto praticamente domande per lo più inerenti all'infermeristica Dato che comunque ho anche intenzione di girare una serie di video riguardanti l'infermeristica Ne approfitto perché inizio già a parlarvi un po' di determinate cose che appunto mi avete chiesto E eventualmente poi in altri video magari farò un po' di approfondimenti Quella più grande in assoluta in realtà è anche quello che mi state chiedendo soprattutto privatamente Ovvero piani futuri Ragazzi in realtà piani futuri diciamo che ve la spiego molto schematizzata Sicuramente il fatto di trovare lavoro Successivamente quando troverò lavoro andrò a convivere Perché in realtà non mi va di andare a convivere senza un vero lavoro Gli step principali sarebbero trovare lavoro e andare a convivere Mi sarebbe piaciuto tantissimo andare all'estero Ma veramente 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 tanto Diciamo che tre anni fa prima di iscrivermi in infermeristica Avendo avuto la possibilità di lavorare come praticamente una sorta di ragazza alla pari a New York Io sognavo proprio di abitare e di lavorare a New York Con il passare degli anni diciamo che un po' questa cosa si è un po' placata diciamo Ovvero il fatto di voler andare all'estero e di pretendere di voler andare all'estero Dal momento in cui comunque ho conosciuto Marco Diciamo che ogni tanto ci capita di parlarne ecco Però sicuramente non è una cosa che posso prendere in considerazione e prendere e andare Perché comunque ho preso un impegno con una persona Mi sembra veramente brutto prendere la decisione così di punto in bianco senza neanche parlarne Però sicuramente in passato sarebbe piaciuto non al 200% ma di più Io mi ricordo che appunto il primo anno avevo fatto domanda per andare a fare Erasmus Ed ero passata all'università di Colonia in Spagna Solo che me ne avevano parlato malissimo Attualmente quindi no Però diciamo che mi lascio la porticina aperta Sono fuori corso di infermieristica e spesso mi sento inadatta Hai mai avuto momenti di difficoltà all'Uni? Ho fatto di tutto pur di non andare fuori corso Anche perché andare fuori corso specialmente in un corso come Scusatemi il gioco di parole Andare fuori corso in una facoltà come la nostra È veramente difficile Anche perché poi si entra un po' in un loop Ho sempre cercato di restare al pari con tutto Ho avuto momenti difficili in università tantissimi Però diciamo che ho sempre cercato di non perdere l'obiettivo principale Ovvero laurearmi il prima possibile Avevo detto che mi sarei laureata a novembre Cascasse il mondo Infatti è arrivato il covid Quindi il mondo è quasi cascato Io comunque insieme sono laureata in tempo La cosa che mi sento di consigliare è che Se vuoi veramente questa cosa Se vuoi veramente arrivare fino alla fine E di continuare imperterre per la tua strada Nonostante gli ostacoli immagino Siano veramente complicati Col fatto anche che dici Io mi sento inadatta Quante volte mi sono sentita io inadatta Nonostante fossi in corso In questo appunto corso di infermieristica Tante volte io mi sono sentita inadatta Tante volte mi sono sentita vecchia Tante volte mi sono detta Mamma mia ma chi me lo fa fare Come pensai ansia del secondo anno di infermieristica Come superarla Allora per questa domanda Mi sa che Vedete la persona sbagliata Perché io sono non ansiosa Ma di più Veramente 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 super ansiosa La cosa che pensavo Quando magari ero in ansia Pensavo di non farcele Dicevo ma cavolo Ma cioè Ce la fanno tutti Ma perché non ce la dovrei fare io Lo so che forse è un po' misero Però diciamo che Nonostante appunto le difficoltà Diciamo che Ho sempre trovato Ho sempre guardato Ok Nonostante io veramente Passavo giorni in cui Non ero negativa Ma di più Ho sempre cercato di guardare Il bicchiere mezzo pieno Finchè alla fine appunto Dopo tre anni Mi sono ritrovata A percorso finito Ecco Ogni tanto ancora ci penso E dico mamma mia Ma come facevo io anni fa In realtà me lo chiedo ogni giorno Però ragazzi L'ansia L'unica cosa che Diciamo che può scalfirla Diciamo così È il prepararsi Tanto Studiare Tanto 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 Come stai dopo la laurea Hai progetti in futuro Allora Come sto dopo la laurea Cioè si pensa forse Che io stia una favola In realtà sto malissimo Per niente bella Questa situazione Per me Infatti non la sto vivendo tantissimo Cioè non la sto vivendo tantissimo Non la sto vivendo benissimo Come si sta dopo la laurea Allora C'è il momento della laurea In cui si festeggia E tutto Ma poi dopo Almeno per come l'ho vissuta io Mi si è spento proprio La luce interiore che avevo Cioè mi si è proprio spenta E ho iniziato appunto ad andare in ansia Per cambiare Perché effettivamente Diciamo che la laurea È solo veramente un piccolo step Poi arrivano i colloqui Arrivano i giorni in cui Devi mandare il curriculum A manetta Arrivano le 250.000 telefonate Devi iniziare a prendere decisioni Arriva il fatto che magari Arrivi ad un certo punto Della tua relazione Che vuoi andare a convivere Ma se non lavori Almeno io Non mi va di andare a convivere Se io non lavoro E quindi diciamo che Sono ritrovata Catapultata In una situazione Totalmente diversa Che ad oggi Faccio un po' Fatica a gestire Ho iniziato a dormire malissimo È vero che c'è tanto lavoro Che tutti dicono Vabbè ma tanto Cioè sei infermiere Ma sì te lo trovi il lavoro Ho capito Però Cioè io non è che Mi posso buttare Alla prima cosa Così a mozzo Progetti per il futuro Ve l'avevo già detto prima Come sai Nella vita post laurea Ci si sente liberi finalmente Ci si sente liberi sì Nel senso che Si esce un po' Da quella routine Scolastica Accademica Ci si sente liberi Ci si sente un po' vuoti Ora che sei laureata In che reparto Vorresti lavorare Allora Potessi scegliere Ok per scelta 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 Mi dicessero Mi proponessero Proprio il reparto Che per me È top del top Sicuramente Sarebbe l'ambito pediatrico Ricordo Se ne avremmo mai parlato Ma comunque Non ho mai nascosto Diciamo il mio amore Nei confronti Dell'area pediatrica Lavorare appunto Con i bambini Mi è sempre piaciuto Diciamo che questo Sarebbe un po' Il mio Sogno Tra virgolette Quali sono i nomi Che vorresti Per i tuoi figli Allora Qua cambiamo E spaziamo totalmente Allora Io ho sempre detto Che avrei Cioè avrei voluto Vorrei Tre figli Due femmine E un maschio Allora Io il maschio Lo chiamerei Andrea Ma perché a me Il nome Andrea Proprio Piace tantissimo Lo so che è un nome comune Lo so che forse è banale Ma a me Andrea Piace tanto 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 Come nome Vorrei avere per esempio Un altro secondo nome Possibile Sarebbe Liam Che appunto Però non è un nome italiano Mi piacerebbe tanto Invece per Cioè diciamo Un nome femminile Sicuramente Vabbè Lo so che Potrei sembrare Un po' Egocentrica O cosa Però Il mio nome Ok Sarebbe un nome unico Ma è composto Da due nomi Con uno spazio in mezzo E dato che sono sempre stata Un po' penalizzata Sotto questo punto di vista Perché il mio nome È sempre stato storpiato Da quando sono nata C'era chi mi chiamava Carol Ann C'era chi mi chiamava Carol C'era chi mi chiamava Ann Chi Carol Ann Cioè insomma Carol Ann Carol Ann Cioè veramente Vi giuro Che è stato veramente storpiato In tutti i modi A me Quando mi chiamano In generale Carol Non mi piace Mi viene l'orticaria Solo al sentirlo Anche perché Il mio nome Correttamente Si pronuncia Carol Ann Non mi sembra Una cosa così difficile Però capisco Che è un nome lungo Ed è pure Con lo spazio in mezzo E secondo me Questa cosa Penalizza tantissimo Premesso questo A me piacerebbe tantissimo Il nome Caroline Scritto proprio Caroline Lo so che sembra Una cosa un po' così Però vabbè Poi un altro nome femminile Che mi piacerebbe tanto È Emma Sicuramente Come funziona L'esame di stato Per l'abilitazione Ad infermieristica Contate che Inizierò a farvi C'è una specie di anteprima Dicevo Vi faccio una breve anteprima Insomma Del video Che poi Sarà effettivamente Nel senso che Ho intenzione di girarlo Un video esclusivamente Sull'esame di stato A parte che in giro Non ne ho visti Proprio su youtube E in più Perché comunque Diciamo che Il mio esame di stato È stato un po' particolare L'esame di stato Senza covid Quindi prima del periodo covid È un esame che Almeno nella mia università Si fa in forma scritta Prima della discussione Prima proprio del giorno Della laurea Noi a causa covid Abbiamo dovuto fare Le lauree a distanza Io mi sono laureata Il 18 di novembre Abbiamo appunto Fatto queste lauree a distanza Con la mattina Prima di Fare la discussione Abbiamo fatto L'esame di stato L'esame di stato L'abbiamo fatto appunto Con delle domande Tre domande Se non mi sbaglio Due Chiuse E una terza Tecnicamente Questo non è proprio L'esame di stato Che anche solo banalmente L'anno scorso si faceva È stato così a marzo Per quelli che si sono appunto Laureati a marzo E poi è stato così Anche per noi alla fine Perché Siamo entrati appunto Nella fase di lockdown Proprio nel momento In cui noi comunque Dovevamo sostenere L'esame di stato Perché tecnicamente Noi dovevamo fare Tutto in presenza Poi alla fine DPCM Conte che arriva Con tutti i suoi decreti E' stato rivoluzionato Un po' tutto all'ultimo Però diciamo che L'esame di stato Un po' la discussione Tutto dipende un po' Dalle varie università Quindi da me Si è fatto così Io so che Invece in altri posti Hanno comunque fatto L'esame in presenza Ma che laurearsi In piena pandemia Non è stato proprio il massimo Ma ad altronde O così Oppure non ci laureavamo Insomma Queste erano le domande Ho cercato di rispondere Un pochettino A tutte le domande Sicuramente ne arriveranno altre Ma farò prossimamente Un altro Q&A Sicuramente Mi mangio il cioccolatino Con voi Perché me lo merito Giuro che non mangio Quasi mai i cioccolatini Però Madonna Super fondente E niente ragazzi Quindi Questo qui Era il video Io spero tantissimo Che vi sia piaciuto Ma soprattutto Che vi abbia un attimo rilassato Era un video Veramente Molto chiacchiericcio E niente So che comunque In generale I Q&A Possono interessare Quindi sicuramente In un futuro Ne farò altri Ecco E magari anche Un po' più a tema Quindi se vi è piaciuto Il video Mi raccomando Lasciate un like E non dimenticatevi Di iscrivervi al canale Ovviamente Se vi fa piacere Potete seguirmi anche Nei miei social Principalmente Instagram Dove comunque Lì abbiamo un contatto Molto più diretto Infatti io Il box delle domande L'ho fatto appunto Su Instagram E noi sicuramente Ci vediamo In un prossimo video Cheers